ecco vincenzo oh così va bene ciao a tutti bentornati o bentrovati sul canale anche da vincenzo oggi parliamo di borsa da serbatoio per l'aprile a tuareg 660 bene come avete capito l'argomento di oggi non è uno di quelli che ti fanno dire wow una cosa che a me mancava solamente volevo condividere con voi una soluzione che ho trovato al poco spazio che c'è nel sottosella dell'aprile a tuareg 660 un'altra parte uno scotto che bisogna pagare per avere la moto del segmento con più escursione alla ruota posteriore e con una sella molto vicina a terra per quanto riguarda il kit attrezzi e riparazione tubeless avevo trovato la soluzione optando per una borsa per una tasca tipo molle che sono le tasche universali con gli agganci universali per gli zaini militari avvitata con due staffe sul coperchio della torre della torretta strumenti della moto quindi tra la torretta e il plexiglass con apertura laterale quindi senza dover ogni volta smontare il plexiglass posso accedere agli attrezzi e al kit riparazione restava ora il problema di alloggiare la pompa usb e qualche cinta e il kit pronto soccorso e lasciare un po di spazio per un eventuale altri oggetti da portare dietro nelle uscite off-road facendo un po di ricerche in giro una soluzione mi è sembrata ottimale è stata quella di prendere la base per la borsa per la borsa serbatoio della rino walk che è fatta appunto con gli agganci femmina del sistema molle e una borsa di pronto soccorso di quelle sempre per gli zaini molli vi lascio descrizione il link su amazon per poterli acquistare entrambe 40 euro la base 15 la borsa quindi siamo su una spesa di circa 55 euro poca spesa che però mi ha risolto il problema anche perché la base essendo con gli attacchi molle è modulare quindi posso usare diverse tasche a secondo delle mie esigenze e in più perché proprio quella fatta per il pronto soccorso perché oltre avere degli agganci per tenere la borsa ferma sulla base ha una grande superficie con il velcro cosa vuol dire questo che non devo ogni volta riempire e svuotare la borsa secondo di cosa vado a fare ma per una spesa di 15 euro ne ho acquistate un paio così in una o tutto quello che mi serve per le uscite off road e in un'altra magari staccando quella attaccando l'altra posso usarla quando giro in moto per città per riporre dentro porta chiavi portafogli telefono altri piccoli oggetti senza dovermeli per forza portare in tasca o portare con me un piccolo zaino i vantaggi di questo sistema e abbiamo appena elencati ovvero sia che è assolutamente modulare e intercambiabile con varie tasche e in più provandola in off road questa borsa non dà assolutamente fastidio anche se anteriormente sul serbatoio non dà assolutamente fastidio negli spostamenti longitudinali sia quindi quando ci si porta proprio avanti sulla sella per curvare stretti da seduti sia nei movimenti di avanzamento verso il manubrio quando si accelera o quando si affronta qualche salita un po' più tecnica in piedi sulle pedane non ho voluto mettere un portapacchi posteriormente con una borsa posteriore anche se sarebbe stato comodo per non perdere il vantaggio di avere un parafango quindi un codone diciamo rastremato verso il basso che ci consente di salire in sella in maniera molto agevole anche in situazioni un po' difficili mi auguro che i contenuti di questo piccolo video vi possano essere stati utili se è così sarebbe molto gradito un like e ricordatevi di iscrivervi al canale ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti